Vincere aiuta a vincere, quindi va bene così, anche se sappiamo benissimo che sono test sulla carta facili, però è anche vero che i carichi di lavoro sono molto pesanti e quindi le gambe stanno rispondendo bene, quindi è giusto continuare su questa strada. Ma sai, a me fare i nomi non è che piace tantissimo, quindi come ho detto prima la cosa bella è che abbiamo già fatto diversi amichevoli, abbiamo giocato tutti quanti lo stesso minutaggio, dove tutti quanti hanno dato l'impronta giusta e hanno detto che sono pronti per essere titolari nel Palermo. Sappiamo benissimo che sarà un campionato lungo e difficile, ci sarà bisogno di tutti, ci stiamo preparando al meglio e siamo contenti di cosa stiamo facendo. Sì, stiamo andando bene, stiamo lavorando bene, come ho detto prima abbiamo fatto tanti amichevoli, quindi tutti quanti abbiamo nelle gambe lo stesso minutaggio, il mister prova sempre queste amichevoli per far sì che tutta la squadra arrivi all'inizio della stagione, nelle partite ufficiali al top della condizione, quindi noi siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, siamo un po' stanchi, però questo è normale. Ma sai, a tre siamo un po' più sicuri in questo momento, perché comunque è il modulo che abbiamo usato negli ultimi due anni, il modulo che ci ha fatto stravincere il campionato di Serie B e il modulo che ci ha permesso l'anno scorso di fare 49 punti. Ora stiamo provando anche un altro modulo, vedremo se saremo bravi di assimilare i meccanismi anche di quest'altro modulo, sarà un'arma in più per noi e soprattutto potremo essere imprevedibili durante la gara. Vasquez, Belotti e Quaison, può essere il loro anno, l'anno di questo trio? Speriamo, lo speriamo tutti quanti, ho detto tre nomi di tre giocatori importanti per il Palermo, con caratteristiche che pochi hanno in Serie A, quindi noi ce li abbiamo, ce li teniamo stretti e speriamo che sia l'anno loro. Ultimissima Stefano, ci avviciniamo alla sfida di Ghion, la Spagna la conosci bene, che partita ti aspetti? È una partita difficilissima, ci aspetterà un ambiente caldissimo, loro si prepareranno al meglio per l'inizio del campionato, giocano in casa, non vorranno fare brutta figura. Noi allo stesso tempo andremo là con la consapevolezza di essere pronti e di giocarci la nostra partita, quindi sarà una bella sfida e saremo contenti di farci trovare pronti.